Io credo che abbia ragione Bersani quando sottolinea che la crescita dell'economia italiana deve molto al movimento della cooperazione, a tutto il movimento della cooperazione, alle diverse aree di vecchia identificazione politica che hanno fatto percorsi diversi ma che hanno prodotto una grande realtà economica che noi non possiamo sottovalutare. Vi vorrei far notare che queste cose non le dico oggi ma le ho sempre dette e quando il mio partito ha avuto responsabilità di governo con il governo Berlusconi e all'onorevole Vietti, mio vicepresidente del gruppo, fu affidato il tema del diritto societario con un certo mandato fu assolutamente garantita la cooperazione perché noi ritenevamo da sempre lo riteniamo oggi come ieri che questo fosse un movimento da garantire non da punire, una realtà da favorire nella sua evoluzione positiva non una realtà a cui tarpare leale. Oggi è il momento in cui il mondo della cooperazione deve fare una grande sforzo di ridefinizione della propria identità, innovarsi profondamente e per questo cogliere l'opportunità di una unità. La politica non giustifica più la divisione in diverse centrali cooperative. Questo secondo me è la cartina di tornasole della sincerità di certi propositi. Vi voglio dire che qui lo dico in un convegno ma poiché recentemente ho letto un articolo su un giornale che parlava di questo tema su 24 ore e il giorno dopo ho telefonato al mio amico Luigi Marino, sono amico in base a un vecchio collateralismo perché fu lui ad iscrivermi alla democrazia cristiana quando era delegato del movimento giovanile così svelo un suo peccato e gli ho detto questa è la strada che dovete prendere ma la dovete prendere al più presto perché dato che oggi il mondo della cooperazione è per un'anime riconoscimento un grande evento economico dovete cogliere l'occasione per lasciare i vecchi porti per avventurarvi in mare e credo sarete protagonisti del cambiamento.